E' importante che io cucinavo questo per i miei figli, già è di ieri, se no chi li sente? Agnesca soprattutto. Sa, noi è da poco che siamo qui in Italia, all'inizio tutto così è difficile. E allora Agnesca, mia figlia, ha preso che fa un po' come gli pare. Senti, apri un po' quel frigorifero, ci sono due piatti coperti, dammi un po' di piacere. Ma è bene? A quell'altro lato pure. Mo' vi è mi stracci. Mi deve? No, no, i stracci, a Roma ti diamo i stracci. Eh, mo' legamo. Aiutami intanto tu a lega quello, io leggo questo. Faccio il nodo qua? Sì, il nodo. Sono buoni i stracci, rivalerà tutto. Ecco. Tiè, questo è per te, posti la via. No, grazie, no. Perché chi ti offendi? Tanto a me mi si spreca. Io ormai cucino, vi ricordo. So sola. Mi piace. Ma, a proposito, ma voi lavorate? Io? No. No, io... No. No. No.